Un altro calcio di punizione, sempre dalla stessa posizione di prima, sempre Michele Daniello con il numero 10. Ci troviamo con il risultato fino adesso 5 a 2, ma siamo quasi agli sgoccioli. Calcio di rigore! Calcio di rigore! Calcio di rigore! È stato proprio steso! Chi è stato steso? Goal! Che l'ha fatto tu? Cristian Nasuti ha realizzato la rete. 5 a 3. C'è stata un'azione che è stato steso, sembrava rigore, però nonostante tutto è entrato il pallone e quindi è stato dato il vantaggio. 5 a 3. 5 a 3 si può ancora recuperare. Fuori gioco! E' abonigione! Calma la panchina! Calma la panchina! Calma la panchina! Calma la panchina!